partono i razzi ammazzamersi, ammazzamersi, ammazzamersi ma ma come scappa? ah no, no attenzione che i nostri loro ne crei aiutano il 60% dell'invenzione è uno di ditta allora, WB li ha fatti tutti ma non capisco bene quale motivo esattamente eh lo, i soldi è pro mi piace la volta grazie beeeellarmici wow ok dai ragazzi, va bene teniamo, teniamo fatelo, fatelo, fatelo addio ciao Mroodog addio ah, l'hai preso qui si ahia, c'è presa di me l'hai presa è morta gli ho mangiato la bomba, le ho mangiato la bomba che bravo è stato intenso no ma Mersi è morta ah bravo, dai vai adesso raga è il mondo è tutto ok ragazzi, sono tutti morti è rientrato la mano ragazzi punto nostro, punto nostro ma lo teniamo fino alla fine abbiamo il graviton, loro forse non hanno ancora il rest se non ce l'abbiamo no, perchè il gioco è l'ultra? perchè avevo visto che si stavano avvicinando quelle due e le altre perdite un po' lontano quindi occhio che ha l'ultra se niente è morto io ragazzi, la mia sono morti io sono morto ed ecco come si vince un 5 v6 no, non è finita non è finita restiamo noi ed ecco come si vince un 5 v6 con 24 kg abbiamo vinto ma abbiamo vinto davvero? davvero buccia su questi che è rusicata no 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 no